Mi dà un po' di quel prosciutto cotto in offerta, per favore? Signore, c'è San Daniele che me ne faccio due fette? Vanno bene due fette, signore? È giusto per un panino, sì, due fettine, grazie. Ma è San Daniele, vero? Sì, signore, è San Daniele, me ne faccio due fettine, strunct, una fettina, strunct, due fettine, strunct, ecco due fettine, vanno bene, signora, due fettine. Magari me ne mette una mezza fettina in più, ma è San Daniele, vero, quello in offerta? Signore, ognuno di noi sa quello che si mangia, ma avete detto per un panino due fettine, ho fatto due fettine, un'altra mezza fettina. Vabbè, è mezzetto, sì, signore, è San Daniele quella in offerta, sì, signora, è San Daniele. No, perché sa, solo per un panino, un paio di fettine, due fettine e mezzo, San Daniele in offerta, va bene, grazie, è veramente molto gentile. No, perché sa, solo per un panino, un'altra mezza, va bene, grazie. Grazie.